Grazie a tutti Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica, economia e attualità dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Sono ospiti in studio oggi i consiglieri Oliviero Dottorini e Andrea Lignani Marchesani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altrimenti si trasformano in delle consorterie in cui la gente si avvicina più per cercare qualche prebenda o qualche posto di lavoro che non per motivi ideali. Spero che ci sia la forza nella coalizione di cui ho fatto parte di rappresentare e di accogliere le istanze civiche che sono molto forti in questa regione. Altrimenti vedremo. Non penso che quelle istanze verranno meno comunque. E credo che sia il caso di non rischiare quello che è avvenuto nel comune di Perugia, in cui forse per superficialità o per una sensibilità che è avvenuta meno, le istanze civiche, questo mondo così variegato e così forte, così fuori dai giochi delle segreterie di partito, non ha trovato un luogo ed è avvenuto quello che è avvenuto. Andrea Lignani Marchesani, centrodestra alla sua collocazione naturalmente, anche vicepresidente di questo consesso, ma nella parte di centrodestra che si presenterà alle elezioni, capitanata dal candidato Claudio Ricci, che ruolo hanno i fratelli d'Italia e soprattutto anche Andrea Lignani Marchesani? Perché questi sono i momenti in cui uno prende delle decisioni. Siamo nella fase cruciale. La ringrazio della domanda. Ovviamente i rischi di cui parlava il collega Oliviero Dottorini per me sono speranze e chiaramente sono contraltari. Ma detto questo, non voglio essere frenteso, però voglio anche essere chiaro. Io non devo dimostrare nulla. Ho fatto tre legislature, sono sempre stato eletto con migliaia e migliaia di preferenze, quindi non ho problemi anche a garantire un ricambio. Io sono a disposizione di una coalizione che voglia veramente cambiare questa regione. Non mi interessa più concorrere per partecipare e affermare la mia, tra virgolette, leadership all'interno del centrodestra, perché alla fine, nonostante sempre si fanno i conti con il mio funerale politico, alla fine io sono sempre presente. Non devo dimostrare questo, non voglio dimostrare questo. Voglio dare un valore aggiunto se c'è una coalizione che compete per vincere. Le premesse erano e possono ancora essere ottime con la candidatura di Claudio Ricci. Poi chiaramente sono subentrate alcune camarille di partitelli politici, ma non in senso quantitativo, ma qualitativo per quanto riguarda la parola partitello, di persone che ambiscono ad essere leader e ambiscono a rappresentare qualcosa, ma gli piace tanto anche il gratte vinci, ti piace vincere facile. La gente che non si vuole confrontare con coloro che hanno consenso e radicamento nel territorio. Se prevalgono queste logiche conservative in cui dovrei solamente lottare per affermare una volta ancora di essere il più votato del centrodestra, francamente questa cosa non mi interessa. Se invece si riprenderà lo spirito originario per cui ognuno vorrà concorrere per cercare di voltare pagina, e ce n'è bisogno perché le sfide che ci attendono sono enormi, tante, sicuramente la sfida delle nuove povertà, la sfida dell'occupazione, la sfida dell'utilizzo corretto dei fondi europei, la sfida dei valori che devono essere riaffermati in una regione di tradizione come l'Umbria, beh allora francamente non mi interessa, darò una mano a perseguire quelli che sono i miei obiettivi, i miei valori, il modello di società che mi piacerebbe poter rappresentare, poter dare, ma non ho bisogno di tornare una quarta volta a Palazzo Cesaroni in quel caso. Perfetto direi siete stati molto chiari nell'esporre la vostra posizione ai nostri telespettatori. Consigliere Dottorini, un argomento di attualità molto sentito dagli Umbri, la trasformazione della E45 in autostrada, una frase alla quale lei si oppone fin dal suo insorgere, però c'è anche un pronunciamento favorevole di quest'Aula del Consiglio regionale, quindi la questione sta andando avanti o forse invece ciò che è accaduto a livello giudiziario, a livello di problemi può fermare tutto? Guardi, l'ultimo fatto in ordine cronologico per gravità, molto importante per gravità, è la decisione della seconda commissione del Consiglio regionale di bocciare la petizione con le firme di 8500 cittadini che chiedeva al Consiglio di rivedere il parere positivo dato a più riprese a quest'opera che è dannosa e inutile, almeno per l'Umbria. Quindi questo è un fatto molto grave perché la scelta neppure di ascoltarli, guardi io sono stato, ho preseduto la prima commissione per dieci anni, non mi è mai capitato che di fronte a una petizione fosse anche di 20 persone, di 50 persone di non ascoltare i proponenti. Al di là di come io la pensassi nel merito, ora il fatto che 8500 cittadini si rivolgono al Consiglio regionale e gli si dica no, non vi ascoltiamo, è significativo, è significativo anche dell'imbarazzo, oltre che di un atteggiamento un po' pilatesco della commissione che preferisce neppure che si esponga il problema piuttosto che tentare di affrontarlo, anche dicendo un no, come ha più volte detto il Consiglio. Beh, io ritengo che questo è ancora più grave di fronte ai fatti giudiziari, cioè mentre a livello nazionale i vertici del Ministero, quasi tutte le persone che sono coinvolte e nel tentare di affermare la realizzazione di questa autostrada a pedaggio che avrebbe un impatto fortissimo sulle economie familiari e imprenditoriali della nostra regione. Dicevo, tutti i soggetti coinvolti o quasi tutti sono implicati in qualche vicenda giudiziaria e noi in Consiglio regionale non ascoltiamo 8500 cittadini, questo è gravissimo. Oggi ritengo che alle motivazioni ambientali, paesaggistiche e alle motivazioni economiche quanto peserà questa grande opera sui bilanci familiari attraverso un pedaggio che è pesantissimo a poche precedenti in Italia un pedaggio di quel genere, oggi a questi argomenti se ne unisce un altro che è quello etico, che è una questione morale che sta attorno a questa grande opera così come altre grandi opere e non è più ammissibile che la politica metta la testa sotto la sabbia per non vedere. Bisogna prenderne atto e bisogna possibilmente sottrarre l'Umbria a una devastazione di questo tipo. Noi non stiamo vincendo su questo perché ripeto la politica sia di destra o di sinistra è unita da una visione cementizia dello sviluppo che a noi pare anacronistica e molto grave. Non stiamo vincendo ma attenzione perché l'opinione pubblica e i cittadini si stanno accorgendo della fregatura del danno che sta dietro un'opera di questo genere e inizia a prendere consapevolezza e potrebbero esserci delle sorprese anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quindi forse occorrerebbe più prudenza e più capacità di ascolto di quello che si muove nella società. Una cosa è certa, noi non ci demoralizziamo, non ci facciamo scoraggiare da queste prese di posizione, da questi atteggiamenti, ma proseguiremo la nostra battaglia, anzi più forte e più determinati di prima. Consigliere Lignani, anche lei sul trasporto ha avuto spesso a che ridire, a che criticare il piano dei trasporti anche sulla questione della ferrovia centrale Umbra, sul raddoppio della tratta, è intervenuto moltissime volte anche nel corso di quest'ultima legislatura. Lei innanzitutto l'autostrada come la vede? La ringrazio ancora una volta per questa domanda perché pensavo che la domanda andasse altrove e sembrava che la volessi eludere. Invece voglio essere molto chiaro, io la penso in maniera differente dal collega Dottorini per quanto riguarda la procedura, ma non la penso differentemente sull'obiettivo, questo sia chiaro. Nessuno, sono un pazzo, potrebbe pensare, preferisco pagare il pedaggio piuttosto che non pagarlo, preferisco un danno ambientale piuttosto che non averlo. E preferisco avere a che fare con dei cialtroni piuttosto che avere a che fare con delle persone per bene. Solamente un pazzo può affermare queste questioni. Ma la mia adesione a essere favorevole alla trasformazione in autostrada però prende lo spunto da un dato di fatto. Purtroppo oggi, con la situazione finanziaria ed economica della nazione, delle regioni, degli enti locali, non si può pensare di avere gratis delle grandi opere. Questo non è possibile. Chiaramente io parlo come obiettivo e quindi il quadro etico mi interessa e come? Per me non si può fare una grande opera perché qualcuno ci si arricchisca e non credo di essere mai stato in mezzo a queste questioni. Certo, la giusta remunerazione di coloro che ci lavorano è assolutamente condivisibile, ci mancherebbe altro. Allora dobbiamo partire dal presupposto anche che l'E45 così com'è non funziona. Non funziona perché è appesantita da un traffico pesante che fa un danno ambientale enorme. Quello sì, perché chiaramente non pagando il pedaggio molto traffico dell'autosone si riversa sull'E45. Abbiamo bisogno invece di rivedere questi bacini di traffico e fare in modo che io non prendo in giro le persone. Quindi coloro che dicono faremo l'autostrada con l'esenzione del pedaggio per residenti mentono sapendo di mentire. Questo sia chiaro. È una buffonata dire questo perché chi fa l'opera sa bene che vuole avere una remunerazione. Non ci sarebbe né la modalità tecnica per esentarli, né l'obiettivo economico perché la maggior parte del traffico è locale. Ma quello che si può fare è un pedaggio, secondo me, non alla francese ma alla Svizzera con un contributo, un tantum da parte di chi la utilizza e questo, guardate bene, è possibilissimo da San Giustino fino a sotto Perugia. Diverso la questione del nodo di Perugia dove le strade alternative non sarebbero percorribili ma in realtà fino ai ponti chi viene almeno da nord, dall'alta valle del Tevere può percorrere una strada nazionale abbastanza dritta senza dover pagare quel pedaggio che secondo me come in Svizzera deve essere minimo. In cambio però si potrebbe ottenere una strada che non è più una mulatiera come quella di oggi che è evidentissimo che non è sostenibile dove i costi di manutenzione delle macchine e dei mezzi diventano assolutamente più pesanti perché il rischio di prendere una buca, di usurare gli ammortizzatori e di incorrere in qualche incidente è assolutamente maggiore di una strada messa in sicurezza, questo non ci piove. Allora oggi la mia posizione, che è differente anche quella del candidato Ricci ma gliel'ho spiegata perché è in questo modo, non può prescindere, concludo, dal fatto che non si può ottenere una messa in sicurezza a gratis. Purtroppo oggi non è più il tempo di questo e mi perdoni il collega Dottorini, chi dice questo, di poter ottenere gratis una messa in sicurezza, credo che quantomeno non ha contezza di quello che è la situazione economica della nazione. No vedi Lignani, lei sa che per quest'opera viene fidanziata da due voci, una è il pedaggio, all'incirca l'80% è data dal pedaggio, c'è un 20% su cui interviene lo Stato attraverso la defiscalizzazione. Se lo Stato deve intervenire prima con la defiscalizzazione, poi perché, come dimostrato a livello nazionale, poi il gestore va sempre a bussare alle casse dello Stato perché non rientra mai solo del pedaggio, ma allora perché non intervenire facendo quegli adattamenti minimi, doverosi, che sono la messa in sicurezza, l'asfalto drenante, mettere in sicurezza... Sono doverosi ma non minimi purtroppo. No, però sono un intervento minimale rispetto all'autostrada, oppure perché non si mette... Io su questo sono favorevoli, un pedaggio di scopo averghereto per rimettere a posto quella situazione che è veramente assurda, piuttosto che gravare tutti i cittadini del pedaggio, perché quella di dire ma guardate i residenti, sgraviamo i residenti, è un'assurdità. Questa arteria è utilizzata al 70% da un traffico locale. Se si esenta o si sgravia il traffico locale non è sostenibile dal punto di vista economico e se tutti gli emiliano-romagnoli, i veneti e tutte le regioni che sono attraversate dall'autostrada dicessero sgraviamo i residenti, non si capisce più chi dovrebbe pagarle, i camionisti che vengono dalla Romagna e chi la dovrebbe fare. E questo è il grave, è questo che non si riesce a dire, è che è impossibile sgravare o a tantomeno esentare i residenti, perché i residenti sono quelli che la utilizzano quest'opera e se si sgrava i residenti non è più sostenibile dal punto di vista economico. E' per questo che il pedaggio ci sarà e sarà carico di tutti, poi che sia coi caselli come nei casi tradizionali o che sia attraverso le fotocellule o che sia attraverso un canone annuale, sarà comunque un peso fortissimo sulle famiglie e sulle imprese, perché se no non si sostiene. Converrà però che oggi, converrai che oggi le aziende, le imprese, le piccole e le imprese stanno aspettando di avere una rete infrastrutturale degna di questo nome, perché altrimenti non riescono più ad essere competitive sul mercato. Questo è un dramma che c'è, che non possiamo sottocerlo e che molte volte per farle rimanere in piedi, basta, anche perché queste sono opere che se si fanno ci vorranno 10 anni, 12, non possiamo pensare, sì magari, ecco, se non diamo almeno una speranza che questo possa avvenire, la maggior parte delle nostre piccole imprese, artigiani, industriali, commerciali, di servizio, rischiano di chiudere nel giro di pochissimi anni. Io ricevo tanti messaggi di sostegno, qualcuno anche non di sostegno, ma la maggior parte di sostegno su questa battaglia contro l'autostrada, tanti sono dei padroncini di chi ha un camioncino, un furgone e che ha fatto quattro conti e sapere che per andare da Perugia a Città di Castello, andate e ritorno, spenderà 50 euro di pedaggio, secondo le previsioni dei promotori, dei promotori. Voi capite, questo inciderà sull'economia delle imprese, oltre che delle famiglie, in maniera insostenibile. Cioè noi dobbiamo fare attenzione, perché altrimenti invece di agevolarle le abbattiamo definitivamente. Quindi io farei molta attenzione, farei molta attenzione, forse è necessario un ripensamento. Per esempio io ho chiesto che la prossima legislatura, chiunque vinca le elezioni, si presenti dicendo che si fa un referendum regionale per stabilire se il parere positivo della regione a quest'opera è giusto oppure no. Un referendum consultivo, questo potrebbe essere. Dopodiché, se vincono i sì, io prometto che mi metto l'anima in pace e sospendo la mia battaglia. Manterrò ovviamente la mia opinione sull'assurdità di quest'opera, ma almeno un referendum ci direbbe veramente cosa pensano gli Umbri. Altrimenti si decide tutto senza ascoltare i cittadini e anzi, quando 8500 presentano una petizione, neppure li si ascolta, perché si ha paura delle ragioni che portano. Bene, il quadro è chiaro, vorrei cambiare argomento. Il referendum sulle tasse vincerebbe per non pagarle il col 100%, ma penso che non sia possibile. Volevo rivolgere gli ultimi minuti della trasmissione su un altro argomento, riparto da lei, Lignani, che parla di fallimento delle riforme operate dalla Giunta Marini, riforma delle comunità montane, agenzia forestale, però non ci sono gli stipendi, lei ha denunciato ultimamente. Allora, guardi, notizia poi di queste ore, il fallimento sta nei fatti, si deve intervenire con un collegato alla finanziaria in morte di legislatura per poter permettere di pagare degli stipendi a dei lavoratori pubblici di ben due comunità montane, senza dare garanzia su quelli non ancora erogati, perché quelli rimarranno bloccati presso i tesorieri delle comunità montane. Ma a parte la giusta battaglia non solo dei dipendenti, ma anche degli imprenditori, dei professionisti che coinvolti in progetti di piano di sviluppo rurale non sono stati ancora pagati perché i denari sono fermi presso il tesoriere che li ha bloccati perché non sono stati onorati molti debiti, quindi non sono i dipendenti ma anche altri, e con il rischio che questi soldi che provengono dall'Unione Europea tornino indietro con multe da parte della Regione, perché c'è anche questo rischio. Però questa è la cartina di tornasole che queste riforme non hanno funzionato, perché le riforme funzionano non se si dice quanto siamo stati bravi a farle, ma se i diretti interessati sulla cui pelle vengono fatti, nell'aspetto in specie in questo momento i lavoratori delle comunità montane, ma soprattutto la comunità regionale ne percepisce benefici. Grazie a queste riforme oggi sicuramente stiamo meglio. Per esempio la grande legge sulla semplificazione, su cui abbiamo provato a dare un contributo come opposizione, ma i risultati tardano a venire e ad oggi non sono minimamente percepiti. Il problema purtroppo non è solamente nelle colpe della giunta regionale che sono tante, ma in una giungla normativa, in un contenzioso di norme tra lo Stato e la Regione che deve essere in qualche modo ovviato con riforme profonde che prendono uno spunto però anche dal livello nazionale. Renzi le sta facendo, ma non so se siano giuste, quello di svuotare le regole democratiche e di accentrare nuovamente presso lo Stato centrale, pensiamo all'Agenzia di coesione territoriale che è il ventunesimo socio che si mette a tavola nella spartizione della torta dei fondi europei. Non lo sappiamo, io non lo credo, però fatto sta che bisogna mettere fortemente mano a queste cose, sarà un lavoro improbo perché non solo bisogna rilegiferare un'altra volta, ma bisognerà fare in modo che le incrostazioni e le renite di posizione provenienti da burocrazie che non vogliono cedere né quote dei loro privilegi né quote del loro potere vengano intaccate. Ecco uno dei motivi per cui è necessario aria nuova. L'attuale giunta regionale, se possibile, non solo non ha dato discontinuità con le precedenti giunte Lorenzetti, ma è stata ancora più ostaggio delle burocrazie regionali. I grandi dirigenti regionali oggi contano troppo e contano molto più della politica, basti pensare che hanno stipendi di gran lunga maggiori di quelli del Presidente della giunta regionale, questo la dice Lunga, che è pure eletto dal popolo. Su questo dobbiamo mettere pesantemente mano se si vuole salvare l'Umbria, altrimenti l'Umbria o quello che rimarrà dell'Umbria se verrà poi annessa o parteciperà ad altri progetti macro-regionali, altrimenti credo che non solo questo non avverrà dal punto di vista istituzionale, ma questo si riverberà anche nella qualità della vita delle cittadine e cittadini Umbria. Consigliere Dottorini, stiamo parlando di riforme, vedo che i minuti volano, avrei una domanda anche sull'ambiente e sul piano dei rifiuti per lei, perché al di là delle etichette dei partiti, lei è un po' il paladino dell'ambiente da quando ha iniziato la sua attività, politica insieme al Consiglio regionale. Quindi l'ambiente rifiuti mi chiede, ma guardi, io porto la vicenda sulla gestione dei rifiuti un po' come uno degli elementi positivi del mio impegno in politica. Il fatto di essere riusciti con molta fatica a gestire un piano dei rifiuti che era molto complesso e anche per certi aspetti contraddittorio, ci porta oggi a poter rinunciare a un inceneritore in Umbria, quantomeno nella provincia di Perugia, perché la provincia di Terni in realtà, se andiamo bene a vedere, già inceneritori ve ne sono. Ma nella provincia del mega inceneritore che tutti volevano in Umbria non ci sarà. Questo è un risultato. Io lo rivendico e lo ritengo uno dei obiettivi raggiunti della mia presenza politica. Certo, rimangono dei capitoli aperti. A me, ad esempio, preoccupa molto che la Giunta regionale nel modificare il piano dei rifiuti vigente, nel modificarlo in maniera strutturale, non abbia avvertito l'esigenza di rifare un passaggio in Consiglio regionale. Anzi, abbia evitato accuratamente, secondo me, ai limiti della correttezza regolamentare di far tornare di nuovo il piano dei rifiuti in Umbria. In Consiglio regionale. Il che è significativo. Se non c'è niente da nascondere, perché non si accetta il confronto democratico? E questo è un elemento che andrebbe sottolineato e preso molto in considerazione. Anzi, sarà uno, se io sarò di nuovo in Consiglio regionale, sarà una delle prime cose che riprenderemo in mano con la nuova legislatura. Consigliere Lignani, lei anche si è occupato spesso del ciclo dei rifiuti. L'ultima segnalazione l'ha fatta a proposito della discarica di Bella Danza. Queste discariche sono piene, sono al limite. Questo è la cartina di tornasù, è il contraltare delle dichiarazioni sempre del collega. Mi tocca rincorrerlo, insomma, in qualche modo. Perché è vero, non c'è stato l'inceneritore, ma ci sono tante discariche. E credo, soprattutto per il territorio da cui noi proveniamo, non sia un bel vedere il fatto che la nostra discarica di Bella Danza, che era stato promesso di chiudere nel 2007 in una partecipata assemblea a cui partecipò l'allora Assessore all'Ambiente, non solo si è ancora aperta, ma sia stata la chitichella raddoppiata fino al 2030 e nessuno parla. E se qualcuno prova a parlare, quando denunciai questo, perché questa cosa fu approvata dal Consiglio Comunale di Fernate senza neanche un voto contrario, durante in pieno... Sì, perché avremo amministratori locali asserviti. In pieno solleone estivo, dico, beh, farò un comunicato su questo, tanto ad agosto non hanno di che scrivere i giornali, avrò uno spazio, neanche una riga. E questo è drammatico, perché è evidente, c'è un piano industriale nella parte nord dell'Umbra, che però è esemplificativo di tutti i piani industriali delle municipalizzate che si occupano di rifiuti, che va contro la legge regionale. Si è fatto un ambito unico regionale, si vorrebbe avere un gestore unico e una tariffa unica. Noi abbiamo ancora dei gestori che fanno tariffe differenti in comuni appiccicati, perché è differente il modo di smaltimento. Le tariffe sono alle stelle, il ciclo deve essere comunque chiuso, non solo con la raccolta differenziata, perché da sola non basta, ci vogliono delle tecnologie all'avanguardia che ci sono, che possono ripagare in termini energetici quanto viene prodotto in termini di rifiuti, non si fa, si fanno progetti obsoleti, si spendono 21 milioni di euro, almeno si programma di spendere, non si chiudono le discariche, non si abbassano le tariffe. E questo è un fallimento di questa giunta regionale ed è un fallimento dei comuni asserviti a queste logiche, non è possibile. Io su questo devo dire che la penso come Lignani. Anni di gestioni amministrative anche nei comuni asservite alle volontà perugine ci portano a questa situazione, per cui è vero tutto quello che ha detto, il raddoppio della discarica, il fatto che ci si avvalga di tecnologie ormai vecchie, obsolete, è sicuramente uno dei fallimenti di questa amministrazione anche regionale. Anche perché tutto il mondo sta dicendo che è un grande business invece innovare in questo settore, vuoi per ricaduta di posti di lavoro ma soprattutto per il risparmio che altri tipi di energia possono portare. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringrazio i consiglieri Oliviero Dottorini e Andrea Lignani-Marchesani e naturalmente tutti voi a casa per averci seguito. Arrivederci.